Gli aeroporti sembrano città nelle città dove realtà molteplici si intrecciano e si sovrappongono e anche qui è importante poter riscoprire il volto compassionevole di Dio. Lo ha detto Papa Francesco incontrando in Vaticano i partecipanti al Seminario Mondiale dei Cappellani Cattolici dell'Aviazione Civile. In questi particolari luoghi di frontiera si trovano persone che viaggiano per lavoro, per turismo, per altre necessità, vi transitano migranti e rifugiati, bambini e anziani, persone che hanno bisogno di cure e attenzioni speciali, senza dimenticare quanti lavorano lì ogni giorno con le loro situazioni personali e professionali. Dinanzi a questa cosmopolita porzione di umanità quindi la cappellania aeroportuale è chiamata a essere un luogo di unità nella diversità e i cappellani a offrire conforto e incoraggiamento mostrando la misericordia divina. Anche negli aeroporti Cristo, buon pastore, vuole prendersi cura delle sue pecore mediante i sacramenti della riconciliazione dell'Eucaristia, dove l'incontro con l'infinita misericordia di Dio apre vie impensate di evangelizzazione. Infatti, ai nostri giorni, annunciare il Vangelo implica sollevare le persone dai fardelli che pestano sul cuore e sulla vita. Significa proporre le parole di Gesù come alternative alle promesse del mondo che non danno la vera felicità. Grazie a tutti.